Buonasera da Infostudio, mercoledì 18 ottobre. E' una storia quasi incredibile, una storia da film, quella emersa dall'indagine sull'omicidio del fruttivendolo di La Mezzia Terme, Francesco Berlingeri, assassinato il 19 gennaio di quest'anno, aveva 57 anni e nello stesso episodio venne ferito il nipote che era minorenne. Una storia da film, una storia alla Mr. and Mrs. Smith, il famoso film di Brad Pitt e Angelina Jolie. Lì erano due i killer, in questo caso invece il marito sparava e uccideva e la moglie forniva il supporto logistico, faceva i sopralluoghi, faceva da palo, controllava la situazione, forniva le informazioni al killer che poi arrivava con una moto. Il killer era Marco Gallo e anche questa indagine riconferma come Marco Gallo fosse a pagamento appunto ritenuto un esecutore materiale di delitti. E poi da questa inchiesta esce fuori anche il ruolo della moglie, una targa appena visibile è stata l'indizio grazie al quale la polizia scientifica di Roma è riuscita a stabilire chi fosse alla guida di quella macchina che si vedeva passare più volte insieme alla moto sulla quale viaggiava l'assassino. E poi c'erano i cellulari agganciati dalla stessa cella in quel momento e sul luogo del diritto. La polizia ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di due persone. Vale a dire Marco Gallo, 32 anni, già arrestato il 31 luglio scorso con l'accusa di essere l'autore dell'omicidio di Gregorio Mezzatesta, il dipendente delle Ferrovie della Calabria assassinato a Catanzaro lo scorso 25 giugno, e la moglie di Gallo, Federica Guerrise, 30 anni. La donna è ritenuta corresponsabile dell'omicidio del fruttivendolo Francesco Berlingeri, di 57 anni, e del ferimento di un nipote minorenne dell'uomo, avvenuti alla Mezzia Terme il 19 gennaio di quest'anno. Il provvedimento di fermo emesso dalla procura di la Mezzia Terme è stato convalidato ieri dal giudice per le indagini preliminari, che ha applicato alla Guerrise la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini avrebbero consentito di risalire ad un solido quadro probatorio nei confronti dei coniugi, ricostruendo i loro movimenti sul luogo del diritto. I particolari dell'indagine sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal procuratore di la Mezzia, Salvatore Curcio. Le indagini, durante le quali sono state visionate le immagini di decine di telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze del luogo del diritto, hanno consentito di verificare che l'autore dell'omicidio aveva utilizzato una moto enduro ed aveva ricevuto il supporto logistico di una persona alla guida di una Fiat 600, della quale si intravedeva una parte della targa, che ha poi permesso di stabilire che l'auto era intestata a Federica Guerrise, identificata come la moglie di Marco Gallo, la cui moto era compatibile con quella utilizzata dal killer di Berlingeri. Dall'analisi delle celle telefoniche, si è scoperto che i telefoni di marito e moglie erano attivi nella zona del delitto, agganciati alla cella più vicina al luogo dell'omicidio. Gallo non risulta essere organico o vicino ad una cosca d'indrangheta e ne è emerso che avesse motivi di rancore nei confronti della vittima, sicché si pensa che il suo ruolo sia stato di killer a pagamento. Secondo gli inquirenti, infatti, Berlingeri potrebbe essere stato ucciso a causa dei suoi precedenti criminali. L'uomo era dedito a furti di auto o di mezzi industriali, fatti riavere poi ai proprietari col metodo del cavallo di ritorno. C'è un'intensa attività investigativa fatta prevalentemente di questioni di natura tecnica, di una scrupolosissima analisi dei filmati, di un'altrettanto certosina verifica dei tabulati telefonici dei due sospettati, un'attività anche di polizia scientifica in senso tecnico, nel senso che l'esaltazione di determinati elementi che emergevano dalle videoriprese è stata resa possibile da particolari, peculiari tecniche poste in essere dal Servizio Polizia Scientifica di Roma. Attraverso tutti questi accorgimenti tecnici, attraverso tutto questo strumentario investigativo è stato possibile ricostruire minuziosamente i movimenti della coppia nel giorno precedente e nel giorno dell'omicidio in una sequenza di movimenti che appunto in maniera assolutamente chiara, precisa e concordante depongono per la responsabilità di entrambi nell'omicidio di Francesco Berlingeri. Il mondo della cultura italiano in lutto per la morte è avvenuta ieri sera nella sua casa di Cetona dove viveva da tempo in provincia di Siena, ma lo si è saputo oggi di Rosario Villari che è morto a causa delle conseguenze di una polmonite. Villari, ex deputato del Partito Comunista, ha anche fatto parte del Comitato Centrale del Partito ed è stato un sostenitore della linea riformista e di una politica di autonomia rispetto all'egemonia sovietica era nato a Bagnara Calabra il 12 luglio del 1925 ha iniziato gli studi universitari a Firenze e poi li ha conclusi a Messina è stato allievo di Galvano della Volpe giovanissimo ha debuttato sulle pagine del Politecnico di Elio Vittorini con una poesia e tre racconti, ma poi i suoi interessi si sono rivolti verso la politica e la storiografia docente di storia moderna, membro sin dal 1990 dell'Accademia dei Lincei ha raggiunto la notorietà grazie ai suoi manuali sui quali hanno studiato migliaia e migliaia di studenti liceali tra gli argomenti sui quali si è concentrata la sua attività di storico il Regno di Napoli nel Settecento, la questione meridionale la storia dell'Europa contemporanea, il Mezzogiorno e i Contadini, il Risorgimento Italiano il suo impegno politico era cominciato con la militanza antifascista e poi nell'organizzazione dei Movimenti Contadini per la Riforma Agraria Villari ha partecipato intensamente al dibattito culturale e storiografico con saggi ed articoli sui giornali, ma anche con interventi nelle trasmissioni radiofoniche e televisive è stato fra l'altro Vice Dean Professor, cioè uno dei docenti con contratto a termine al St. Anthony's College dell'Università di Oxford e all'Istituto di Studi Avanzati di Princeton che è una delle più prestigiose università private del mondo il suo impegno politico era cominciato con la militanza antifascista, abbiamo detto poi dal 90 al 94 è stato presidente della giuria del premio letterario Viareggio nel 96 venne nominato presidente della Giunta Centrale per gli studi storici domani nel comune del Senese Cetona in cui viveva si terrà una cerimonia in suo omaggio organizzata dal comune a tanti saranno fischiate le orecchie, qualcuno esulterà pure e ci sono anche adesso assetti, equilibri, competenze, assegnazioni di risorse che dovranno essere riviste il Consiglio d'Europa ha ammonito l'Italia e gli ha imposto di rivedere la politica di progressiva riduzione ed abolizione delle province ristabilendone le competenze e dotandole delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle loro responsabilità sappiamo che questo è uno dei lai più alti che si elevano soprattutto dagli enti locali, dai comuni e dalle comunità disamministrate molte volte proprio perché sappiamo per esempio lo stato della viabilità stradale in alcune zone della nostra regione nell'entroterra crotonese c'è il caso Petiria, Policastro, su tutti è comunque questa una delle raccomandazioni contenute nel rapporto di monitoraggio sulla situazione italiana stirato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa che è stato votato nel pomeriggio nella sessione plenaria che è il frutto delle visite del Congresso in Italia, l'ultima è stata portata a termine nello scorso mese di marzo. A proposito di risorse, a proposito di problemi, la siccità, la necessità che quest'estate è diventata solenne diciamo così e che questo ottobre insolitamente siccitoso quando invece dovrebbe essere uno dei mesi più piovosi non farà che aggravare. Ci proiettiamo verso l'estate futura ma dovrebbero farlo soprattutto coloro che hanno posti di responsabilità e di governo e per ora non se ne ha a sentore, invece sarebbe necessario per le dighe per esempio, ben 31 le incompiute, occorrerebbero 620 milioni di euro. Sono 31 le grandi opere idrauliche incompiute in Italia. Dighe come quella sul Merito in Calabria o di Pietrarossa in Sicilia, ferme per contenziosi o burocrazia, in territori che soffrono la sete. Oppure canali di irrigazione come quelli di Alento in Campania, mai completati per mancanza di fondi, con risultato che l'acqua dell'invaso di Piano della Rocca non arriva ai campi. Tutte opere costate decine di milioni di euro e che ne chiederebbero altrettanti, anzi di più per essere finite. L'AMBI, l'Associazione dei Consorsi di Bonifica, le autorità di diritto pubblico che gestiscono i bacini idrici, ha fatto il conto di quanto queste 31 opere siano costate finora alla collettività. 537 milioni di euro. Ma per completarle ne servirebbero più del doppio, cioè altri 620 milioni di euro. I dati sono contenuti in un rapporto intitolato non a caso Manutenzione Italia, presentato due giorni fa a Roma alla Presidenza del Consiglio. L'AMBI, che raccoglie 116 consorsi in tutta Italia, propone al Governo un piano per i piccoli e medi invasi da 20 miliardi di euro di investimenti in 20 anni, per un totale di 2.000 interventi, 400 dei quali già con progetti esecutivi. Per il rischio idrogeologico viene proposto un altro piano da 8 miliardi di euro di investimenti in 20 anni, per 3.709 interventi complessivi. L'AMBI calcola che ogni milione di euro investito in questo settore genera 7 posti di lavoro, mentre per i danni da alluvioni lo Stato spende ogni anno 2 miliardi e mezzo di euro. Per non parlare della siccità. Il Governo, fra legge di bilancio e fondi ministeriali, ha destinato quest'anno 1.452 milioni di euro al dissesto idrogeologico e dagli interventi idraulici. Si è invertita la rotta, ora ci sono le risorse, cerchiamo di spenderle, ha commentato il Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci. Ed i piani dell'AMBI vogliono essere un'indicazione al Governo su come spendere queste risorse. I consorsi di bonifica, ha detto il Presidente dell'Associazione, Francesco Vincenzi, si assumono la responsabilità di fornire un pacchetto progettuale in grado di dare risposte al Paese. Il problema in questo settore è la governance, ha spiegato Mauro Grassi, direttore di Italia Sicura, la struttura di missione di Palazzo Chigi per il dissesto idrogeologico. La pluralità dei soggetti coinvolti, regioni, comuni, ministeri, consorzi, aziende pubbliche, blocca gli interventi. Occorre ancora semplificare le norme. La squadra mobile ha arrestato a Vibo Valencia cinque persone accusate di aver svolto un'intensa attività di spaccio di droga in città e nella frazione Piscopio. Il giro di clienti di questi spacciatori era composto soprattutto da giovani, alcuni dei quali sono minorenni. Agli arresti domiciliari Arcangelo Michele D'Angelo, di 27 anni, Giovanni Michele ed Antonio Zuliani, 21, 19 e 25 anni rispettivamente, e Nicola Doria, di 30. Per altre due persone, Emanuele Labella, di 25 anni, e Francesco Murano, di 20, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La guardia di finanza ha arrestato un uomo durante una perquisizione in un ristorante che aveva nascosto, in una credenza trapposata e bicchieri all'interno di una pochette da donna, una pistola clandestina semi-automatico calibro 22, perfettamente funzionante e munita di caricatore con 20 colpi. Il ristorante era di proprietà di una società diretta dalla moglie di quest'uomo che ha poi rivendicato la titolarità dell'arma e che, pur essendo incensurato, risulta apparente con appartenenti ad una cosca d'indrangheta. Parliamo invece adesso di salute, parliamo di prevenzione, parliamo di defibrillatori, perché in un'iniziativa sulla prevenzione al liceo Fermi di Catanzaro Lido è stato consegnato, fra l'altro, anche un defibrillatore. Sono circa 70 mila le persone ogni anno colpite in Italia da un infarto e sono davvero tante e purtroppo nell'80% dei casi questi attacchi risultano fatali, spesso, perché tanto si è lontani da strutture sanitarie magari e poi perché non si interviene subito. Occorrerebbe intervenire nei primi 3-4 minuti, invece ne passano almeno 10-12. L'educazione alla salute ed alla prevenzione è entrata nelle classi del liceo scientifico Enrico Fermi di Catanzaro, grazie ad un convegno nel corso del quale Universo Minori, l'associazione che l'ha organizzato, ha anche donato alla scuola un defibrillatore che sarà sistemato nella palestra e che è corredato da una copertura assicurativa contro furti e danneggiamenti. Oltre a ribadire come la prevenzione sia la prima arma a difesa della salute, ai giovani studenti sono state illustrate le nozioni principali relative al primo soccorso, grazie all'ausilio di alcune diapositive e con una dimostrazione pratica del massaggio cardiaco su un manichino. In Italia è ancora troppo basso il numero delle persone in grado di prestare soccorso a chi viene colpito da un arresto cardiaco. Numeri antitetici rispetto alla vastità del fenomeno. Ogni anno nel nostro paese una persona su mille ha un infarto e solo il 2% riesce a sopravvivere. E questo a causa dei tempi medi di intervento troppo dilatati, tra i 12 e di 15 minuti, quando invece ne occorrerebbero 3 o 4 per riuscire ad avere risultati efficaci. Ecco dunque spiegata l'importanza della tempestività dei soccorsi. Il tempo è cuore, dicono i cardiologi, e questo perché per ogni persona colpita da arresto cardiaco, ogni minuto che passa le possibilità di sopravvivenza si abbassano del 10% e dopo appena 5 minuti scendono al 50%. Le vittime degli infarti sono più di 70.000 ogni anno ed oltre l'80% dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie. E quindi i defibrillatori sono strumenti di sopravvivenza fondamentali. Le stime indicano come la diffusione della defibrillazione precoce e la formazione di un numero sempre maggiore di cittadini in grado di usare questi dispositivi fa aumentare il tasso di sopravvivenza in misura molto rilevante. Basta poco il messaggio veicolato nel liceo catanzarese dalla presidente di Universo Minori, Rita Tulelli, dalla vicepresidente nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, Stefania Zampogna, e dal direttore della struttura complessa di pediatria dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, Giuseppe Raiola. Io sono molto grato alla dirigente del Plesso Fermi e alla dottoressa Tulelli per questa opportunità, perché ci permette di educare il personale insegnante all'uso del defibrillatore. È una problematica di estrema importanza perché noi sappiamo che sono circa 73.000 gli arresti cardiaci in Italia, vuol dire 200 vittime al giorno. Agire precocemente è fondamentale per la sopravvivenza, bisogna essere in grado di agire in 3-4 minuti dall'evento perché sappiamo che in 10 minuti ormai il danno cerebrale è assolutamente irreversibile. È chiaro che l'intervento deve essere settato sulla scorta del soggetto sul quale bisogna operare, quindi a secondosi o l'attante, un bambino in un caso specifico sono ragazzi adolescenti e quindi ecco che questa donazione di un defibrillatore io credo che sia importantissima e credo che ancora più sia l'addestramento dei laici appunto alla manovra per la rianimazione e soprattutto per l'uso del defibrillatore. Con questo servizio per questa sera abbiamo terminato, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a domani con InfoStudio alle 13.50. Buona serata. Grazie a tutti.